Sì, sono lì, 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 ecco non sento ancora Gabriele Cattani, intanto vediamo le immagini di Cacà, riusciamo a fare uno stand up al volo? Sì, sì, taccalo. Vai, vai. Si è concluso in questo momento il colloquio tra Cacà e i tifosi del Milan, Cacà e Abbiati hanno incontrato i tifosi rossoleri per ascoltare la loro protesta, silenzio totale al colloquio tra Cacà e i tifosi, chiuso da un grande applauso da parte degli ultras rosso neri che hanno molto apprezzato il gesto soprattutto del brasiliano, oltre che della...